Domani si giocherà la seconda partita di campionato nello spazio di pochi giorni. Sarà subito un'occasione per rialzarsi dopo il match con l'Empoli? Sì, assolutamente sì. Fortunatamente si torna subito in campo, quindi sono convinto che la mia squadra abbia tantissima voglia di rivalsa dopo l'ultimo match disputato con l'Empoli. In Serie A nessuna squadra ha segnato tanti gol come l'Inter nel primo quarto d'ora di gioco. Segno che nonostante qualche difficoltà la squadra scende in campo sempre con l'atteggiamento giusto? Sì, è una caratteristica chiara della nostra squadra. È una caratteristica importante perché l'approccio è fondamentale. e solitamente riusciamo sempre ad approcciare bene i match ed è una caratteristica che deve sempre esserci nella mia squadra. A parte del Napoli, Minister, che ha tenuto finora un livello altissimo, tutte le altre squadre di alta classifica hanno avuto un rendimento simile. Cosa servirà nella seconda parte di stagione? Chiaramente servirà più regolarità da parte di tutti, a parte il Napoli che in questo momento sta facendo un campionato a parte. Siamo cinque squadre in pochissimi punti, quindi bisognerà cercare di essere più regolari guardando alla singola partita perché giocando così tanto è normale che bisogna concentrarsi lì. Sì, la Cremonese anche dopo il cambio in panchina ha ritrovato delle buone prestazioni. Come si affronta un avversario così combattivo e in fiducia? È un avversario che nel corso del campionato ha fatto buoni match. Mi viene in mente la partita con il Milan, con il Napoli, con la Juventus in casa. Hanno fatto ottime partite, adesso è cambiato l'allenatore, con un allenatore che l'ho avuto come allenatore. È un allenatore molto preparato, che dà una propria identità alle squadre. Adesso hanno vinto, hanno ottenuto una qualificazione al Maradona, quindi sono in un ottimo momento. Anche l'ultima partita di Bologna hanno fatto una buona gara. Dopo il match contro la Cremonese, il calendario prevede due impegni importanti con l'Atalanta in Coppa Italia e il derby. Quanto sarà importante gestire al meglio la rossa anche in vista di un mese di febbraio molto impegnativo? Beh, assolutamente. Sappiamo che il calendario è fitto di partite. Noi chiaramente dovremo affrontarle una volta. Chiaramente il nostro focus, il nostro obiettivo adesso è la partita di domani a Cremona, sapendo che avremo tantissime partite, con la speranza di poter recuperare tutti questi giocatori che in questo momento abbiamo fuori. però piano piano stiamo cercando di recuperarli affinché si possano avere più rotazioni, più uomini disponibili per la singola partita. Grazie. Grazie a voi.